Come far germogliare le patate Come far germogliare le patate Come far germinare le patate per poi procedere alla coltivazione Come si tagliano le patate per la semina e consigli per piantare le patate germogliate La coltivazione delle patate è semplice, tutti possono provarci, vi basterà avere un paio di vecchie patate germogliate Se avete dimenticato le patate in dispensa, probabilmente queste avranno avuto modo di emettere uno o più germogli In questa pagina vedremo come stimolare la germinazione delle patate per poi proseguire alla coltivazione Patate per la semina Spesso, le patate che troviamo al supermercato sono state trattate con sostanze atte a ritardarne la germinazione Le patate destinate alla semina dovrebbero essere acquistate presso un consorzio agrario o da un piccolo coltivatore locale Se proprio non sapete a chi rivolgervi, provate a comprare patate biologiche scegliendo i tuberi migliori Ricordate che quando scegliete il tubero, non state selezionando solo una patata ma state decidendo quale varietà coltivare Pre-germogliazione Come far germogliare le patate La pre-germogliazione ci consente di accorciare i tempi di coltivazione e selezionare le migliori patate da seminare Si esegue un mese prima della semina delle patate Per eseguire la pre-germinazione vi basterà collocare i tuberi all'interno di una scatola Affiancateli senza addossarli ma occupando lo spazio di un unico strato Evitate di ammassare più patate l'una sull'altra altrimenti arriverà poca luce Ponete la scatola in un luogo luminoso e fresco Attenzione! Luminoso sì, ma non ha diretta esposizione solare Quando le gemme avranno raggiunto una lunghezza di 2-3 centimetri, le patate saranno pronte per la semina Prima di piantare la patata eliminate i germogli di troppo Lasciate tre germogli per ogni patata o per parte di patata che andrete a piantare Nota bene la germinazione delle patate può avvenire anche nella credenza di casa, soprattutto quando le patate sono a diretto contatto con cipolle Le sostanze sprigionate dalle cipolle stimolano la germinazione della patata L'unico inconveniente è che, in condizioni di scarsa luminosità come nella credenza di casa, i germogli emessi dalle patate sono generalmente molto esili Tuttavia, non vi costa nulla provare a coltivare patate germogliate in modo naturale nel cassetto della cucina Magari il risultato vi sorprenderà Come si tagliano patate per la semina? Per la semina è possibile usare patate tagliate o intere Le patate grosse, con più germogli, vanno tagliate in più parti facendo in modo che ogni porzione vada a conservare 2-3 germogli Quando seminare le patate, il periodo migliore per seminare le patate varia in base alla zona climatica Ecco il periodo della semina delle patate Nel meridione si può seminare da settembre a dicembre Al centro si possono seminare patate da febbraio ad aprile Al nord si possono seminare patate da aprile a giugno Nelle zone costiere si può proseguire la semina anche a febbraio Chi semina nell'orto dovrà rispettare una distanza adeguata tra una pianta e l'altra e tra le diverse file La distanza da rispettare dipende dalla varietà Ma generalmente si consiglia una distanza di 40 cm tra una pianta e l'altra e di 80 cm tra un solco, fila, e l'altro Per tutte le informazioni, coltivare le patate Come conservare le patate senza farle germogliare Chi coltiva patate in orto, nello stoccaggio, rischia di ritrovarsi con una marea di patate germogliate da dover consumare velocemente Per evitare che ciò accada vi è un modo giusto per conservare le patate e tardarne la germinazione Appena si formano i germogli, bisognerebbe aver cura di eliminarli prontamenti Inoltre dovreste conservare le patate in una zona con temperature non superiori ai 6-8 gradici Ma la temperatura non deve neanche scendere sotto i 3-4 gradici Altrimenti i tuberi assumeranno un sapore dolciastro e poco gradevole Anche l'umidità gioca un ruolo importante L'ambiente non dovrebbe essere troppo secco ma neanche troppo umido